Buongiorno, ci risiamo dopo circa un paio di settimane in cui mi sembrava di stare meglio sono già due o tre giorni concomitanza col ciclo anche che non va proprio c'è qui con me il mio gattone che mi fa sempre compagnia quando sono la nanna dormo pochissimo dormo male a mattina è molto faticoso alzarsi ieri verso le 11 mezzogiorno ho iniziato ad avere una sensazione di mal di testa e crampi all'addome, al basso addome, può essere anche all'altezza dell'utero non so cosa fosse so solo che mi sono messa a riposare nel primo pomeriggio e invece di migliorare è peggiorato finché ho dovuto prendere un antinfiammatorio perché avevo tutta la lato destro dolorante la gola e qua facevo fatica di codi glutine ma anche a respirare avevo proprio l'inforo di ingruzzati cosa sia successo non lo so sono stata letta tutto il pomeriggio e solo verso le sette mi sono alzata ma alle nove ero già letto di nuovo e cosa sia è arrivata anche l'amicetta a giocare ha trovato una pallina di gomitolo e cosa dire non lo so sono molto stanca però piano piano cercherò di rimettermi in piedi anche oggi cosa sia successo? boh misteri non fa niente ci aggiungiamo anche oggi al micio al micio e al micio al micio e al micio al micio